Lezione della guida numero 53, 19 giugno 1959 Amore di sé Saluti, miei cari amici Dio vi benedica a tutti, benedica questa ora, benedica il nostro lavoro Ora che per qualche tempo mi allontanerò dalla manifestazione fisica per un breve periodo Dal nostro mondo desideriamo esprimere la nostra gratitudine per ciascuno di voi Voi che fate ogni possibile sforzo, combattete e vincete sempre disposti a evocare la vostra forza Per superare i blocchi interiori e le resistenze Voi che avete il nobile coraggio di percorrere questo sentiero di luce Dovreste rendervi conto che ognuno dei vostri sforzi aiuterà anche noi E di questo vi siamo grati Perché senza la vostra buona volontà Noi non potremo portare a termine il nostro compito Vorrei anche dare un suggerimento a tutti i miei amici dai tre gruppi Quando in autunno riprenderete la vostra attività, riunitevi tutti insieme Da quella riunione collettiva dei tre gruppi potrebbero derivare alcuni cambiamenti Sarebbe buono poter discutere sul modo migliore per determinare gli attriti tra di voi Su come fare per imparare da questi contrasti sia individualmente che collettivamente E anche poter riflettere su come ognuno di voi contribuisce a creare quegli attriti Anche se siete convinti che la colpa sia decisamente degli altri Cercate di trovare un modo per raggiungere un'unità di intenti Cercate di rendervi conto della responsabilità e dell'impegno meraviglioso Che ciascuno di voi ha nel partecipare a questo lavoro Cercate di avere un'idea chiara di quale dovrebbe essere il lavoro di gruppo da fare Che cosa si propone di realizzare e come va affrontato Tutti questi dovrebbero esprimere il loro parere In questo incontro comune ogni obiezione dovrebbe essere liberamente espressa E intelligentemente discussa in amicizia e con spirito di apertura verso il punto di vista degli altri Questo è il mio consiglio per l'inizio della nuova stagione Dopo le vacanze, naturalmente, voi avete lo vostro libero arbitrio E dovreste prendere quel che vi dico solo come suggerimento e nulla di più Dopo la discussione in comune potreste accorgervi che una sola riunione non è sufficiente Così potreste decidere di riunirvi ancora una volta tutti assieme Fino a che ogni aspetto non sia chissato o chiarito E ritornare poi a riunirvi di nuovo nei tre gruppi distinti Elaborate un piano d'azione e riceverete ispirazioni Cercate di diventare consapevoli dello spirito santo Dell'ispirazione proveniente dal mondo divino Cercatela specialmente quando i disaccordi e gli attriti vi dividono Stasera vorrei trattare dell'argomento dell'amore di sé Sapete tutti perché l'ho detto ripetutamente Che ogni verità può venire distorta e diventare una menzogna È questa, probabilmente, la più potente arma del male Una completa menzogna non sarebbe di per sé pericolosa Ma quando una cosa che in alcune situazioni può essere vera e giusta Viene applicata male in altre situazioni Viene cioè distorta e rigidamente impostata come regola inflessibile Siamo allora di fronte al pericolo del male La verità è il significato del quale concetto o idea Possono essere distorti fino al punto estremo del loro annullamento Questo accade anche per l'amor proprio Nell'anima amatura questo amore di sé è sano Ma tutte le volte che gli atteggiamenti e le correnti inconsce vengono distorte Questo succede anche per il sano amore di sé Il tipo sbagliato di amore proprio esiste in molte forme Il più crudele è l'egoismo Cioè porsi in una luce o in una posizione migliore rispetto agli altri Desiderando vantaggi che sono ingiusti verso gli altri Poi c'è anche un certo tipo di narcisismo Un tipo sottile di boria nauseante del tutto ovvio Anche questo può manifestarsi su vari livelli Il livello più esterno si nota facilmente E viene anche facilmente rilevato dalle ricerche spirituali Che ha già iniziato a esaminarsi Sebbene la sua esistenza sia spesso celata nelle emozioni E non si esprima nei gesti e nelle manifestazioni estreme A volte può essere persino mascherata da un comportamento di tipo opposto Che non è autentico A quel punto può essere difficile da rilevare Sia per gli altri che per il ricercatore stesso Questo richiede un lavoro profondo Come quello che state facendo su questo sentiero È inutile dire che qualunque condotta Per quanto corretta Ma che non sia fondata sull'onestà e su una profonda convinzione Non sia sostenuta da emozioni dello stesso tipo È non solo inefficace Ma addirittura dannosa per la personalità Almeno fin quando l'individuo è ancora convinto Che la sua condotta sia espressione del suo ser più profondo Poiché l'illusione è più dannosa della peggiore condotta esterna Perciò cominciate a cercare le vostre correnti interiori E forse nascoste dall'amor proprio e distorto Innanzitutto scoprite quale sia l'idea corretta di amare sé E fate caso a come opera questa viene A come opera quando viene distorta Tuttavia non permettete che questa idea corretta Vada a sovrapporsi alla deviazione che ne fate A causa del senso di colpa che avete Notate piuttosto che cosa si origina in voi A causa di questo errato tipo di amor proprio Deve esserci sempre una ragione per questo Finché non avrete scoperto questa ragione Amici miei Anche se sapete che la distorsione è sbagliata Il solo saperlo non vi sarà di nessun beneficio Non sarete in grado di raddrizzarla Il procedimento deve sempre essere questo Per prima cosa scoprite in che modo Il vostro amor proprio è errato Finché non scoprite tutte le più sottili emozioni nascoste Non avrete modo di andare avanti Ma appena siete venuti a conoscenza Potrete esplorare le ragioni più profonde E portarne alla scoperta la causa Generalmente troverete che la causa del vostro amor proprio Distorto è proprio la mancanza di un sano amore di sé Quando non vi amate come dovreste Siete costretti ad amarvi troppo in un'altra direzione In altre parole, voi cercate inconsciamente il rimedio sbagliato A causa della mancanza di rispetto di sé Rispetto che è il giusto tipo di amor proprio Cercate di supplire a quella mancanza Con un amore sproporzionato di sé In altre aree del vostro essere Dovete ricordarvi dell'inevitabile relazione Fra queste due tendenze Se vi amaste in modo corretto Non avreste bisogno di amarvi troppo Nella lezione sul circolo vizioso Vi parlai dei vostri sensi di colpa Della vostra ribellione contro l'autorità E delle vostre paure di non essere accettati e amati Tutti questi atteggiamenti Sono la base del disprezzo di voi stessi E dei vostri sentimenti di inferiorità Vi disprezzate perché in qualche modo Desiderate prendere sempre la via più breve Volete ottenere le cose nel modo più facile Come un bambino Questo desiderio si trova in definitiva Alla radice del disprezzo di voi stessi Dei vostri sensi di inferiorità E nient'altro Ogni altra cosa Che vi capita di scoprire Per spiegare i vostri sensi di inferiorità Non è altro che un sintomo E una razionalizzazione Nella misura in cui vi sentite insicuri E inferiori Ci deve essere un aspetto di voi Anche se forse profondamente nascosto Che desidera sfuggire alla vita In questo modo Sperate di ottenere un guadagno sulla vita Senza investire o rischiare E senza esporvi In altre parole Desiderate ingannare la vita In un modo o nell'altro Solo dopo aver scoperto questo lato Giungerete alla radice Dei vostri sensi di inferiorità E della mancanza di rispetto Per voi stessi E non prima Fino ad ora Non riuscirete a spezzare Il vostro circolo vizioso Ma giunti ad un punto di svolta Quanto per intima crescita e comprensione Non desiderate E non vi aspettate più Di prendere scorciatoie nella vita Otterrete un ben fondato rispetto Di voi stessi Da quel punto in poi Vi amerete in modo sano E giusto Non avrete più bisogno Dell'amore sbagliato Che in ultime analisi Alimenta solo il disprezzo Per voi stessi Il solo fatto di rinunciare All'intenzione di barare con la vita Purificherà La vostra intima visione E la capacità di comprensione E vi renderete pienamente conto Che un vostro vantaggio Che sia allo stesso tempo Uno svantaggio O un danno per gli altri Non vi sarà mai Di alcuna utilità Può sembrare così Per un certo periodo Ma non lo è veramente mai Il crederlo È dovuto All'umana cecità Di questa sfera terrestre Che a causa Di una visione limitata Delle cose Vi fa intravedere Solo una piccola parte Del quadro complessivo L'intima conoscenza di sé Tuttavia Vi si rivelerà Altri aspetti Del quadro Che vi convinceranno Della falsità Di una tale supposizione Siete ancora intrisi Della falsa convinzione Che uno svantaggio Per gli altri Possa costituire Un vantaggio per voi Ogni giorno Ci sono momenti In cui reagite In questo modo Perlomeno A livello emotivo Ma su questo cammino Comprenderete pienamente Che ogni possibile vantaggio Ottenuto a scapito Di un fratello O di una sorella Che in modo tale Viene a subirne un danno In definitiva Richiederà da voi Un prezzo molto più alto Di quello che paghereste Rinunciando a tali Buoni affari Esiste anche Un altro tipo Errato di amore proprio La cui esistenza È molto più diffusa Di quanto supposto È quello Stucchevole Di tipo Borea Tipico di chi È innamorato Di se stesso Si può manifestare In vari modi Non discuterò Ora il caso Più evidente Della persona Semplicemente Innamorata Del suo sé esterno Quella è una forma Molto grossolana È relativamente rara Della malattia Dell'animo Voglio occuparmi Della parte più sottile Della stessa corrente Che è molto più diffusa Della forma grossolana Una persona Può essere Attaccata Ad alcuni suoi difetti Come ho già spiegato Ha piacere di averli E crede che siano Degni di ammirazione Sebbene intellettualmente Sappia che non è così Eppure Se si soffermasse Ad analizzare Le sue vere reazioni Scoprirebbe Che è innamorata Del suo modo di vivere Del suo proprio stile di vita Questo È un aspetto sottile Che viene facilmente Confuso Con il senso di gratitudine E gioia di vivere Che sono invece Del tutto positivi La linea di demarcazione Tra due emozioni È molto sottile La più piccola deviazione Del senso di gratitudine Di gioia Che si sta provando Quando si è percorsi Della forza vitale Può riportare per reazione Ad un insano attaccamento Al proprio modo di vivere Non ci sono regole Che definiscono Dove potete deviare E dove no Soltanto Quando siete in completa sincerità E onestà con voi stessi Quando vi ascoltate interiormente Quando controllate E osservate bene Le vostre reazioni E cercate di sentire Appieno Le vostre emozioni Avrete la risposta Su dove derivate Da un atteggiamento sano E positivo State comunque attenti All'estremo opposto Al sentirvi cioè in colpa Quando assaporate piacevolmente La vita Poiché Vi avete rivelato Anche una leggera vena Di amor proprio Separate Quei due atteggiamenti Senza soffocare La legittima Emozione della paura E nel senso di colpa Per la possibile Emozione sbagliata Frammista Quella sana Non potrete mai Sbarazzarvi a forza Delle reazioni Sbagliate Una volta che le avete scoperte Non potreste riuscire O finireste solamente Per soffocare La genuina gioia Di vivere Scoprite piuttosto Dove mancate Del giusto amore Di sé E questo Diminuirà Automaticamente Il vostro Amor proprio Distorto Mi rendo conto Che questo È un terreno Scivoloso Amici miei Quelli di voi Che ancora Non hanno sperimentato Ne sono in qualche modo Addestrati Al lavoro Che stiamo facendo Mi potrebbero Facilmente Fraintendere Il vostro intelletto Non sarà Mai sufficiente A comprendere Quello che intendo Solo le vostre emozioni Possono farlo Non sentitevi mai In colpa Per le cose Che scoprite Di voi Ma accettatele E andate avanti A scoprire Che cosa Si trova al di sotto Il motivo Per cui reagite O sentite In quel particolare modo Scoprite Quale rifiuto Possa aver causato Il vostro Amor proprio Quale Essere Innamorati Di voi stessi O della vostra vita In una forma O nell'altra Perché Ogni volta Che esiste Una forma Errata Di amor proprio Deve esservi Coinvolto Un rifiuto Immaginario O reale Normalmente Il rifiuto Si trova All'estremo Opposto Della corrente Dell'errato Amor proprio Quando riuscite A scoprire Dove siete Stati rifiutati Non sarete Più Così severi Con voi stessi Cercate Cercate di scoprire Anche in che modo Avete cercato Di contrastare Questo rifiuto Ritirandovi Inconsciamente Dalla vita Manipolando E ingannandola In modo sottile Con il vostro Atteggiamento Interiore È questo rimedio Che non vi porterà A scartare Il sano E buon sentimento Che si trova Accanto Alla reazione Distorta In tal modo Sarete in grado Di mantenere La vostra contentezza La vostra gratitudine La vostra gioia Per ogni cosa Buona che avete Senza l'elemento Dell'attaccamento Diciamo così Il corretto tipo Di amore di sé È una naturale Qualità Dell'anima sana Nella misura In cui Guarite Dalla vostra Malattia anteriore Amerete anche voi Stessi Correttamente Per un lungo periodo L'umanità Ha creduto Erroneamente Che amare Se stessi Fosse in qualche modo Peccamioso Credere questo È altrettanto Sbagliato Quanto Provare Un proprio Amore Un amore Proprio Distorto In nessuna Delle sacre scritture O nei vari insegnamenti Spirituali Di verità E di valore Troverete mai Che non dovreste Amare voi stessi Non amarsi Significherebbe Non onorare La manifestazione divina Che voi rappresentate Non amarsi Comporta Autoposizione Manosochismo Negazione Della propria Personalità Non amarsi Vi impedisce Di funzionare Armoniosamente Inibisce La vostra capacità Di amare E aiutare Gli altri Così Fate una distinzione Tra il sano E il malato Cioè Tra il rispetto Di se stessi E il distorto Amor proprio Spesso Le persone Si tormentano Prima Di prendere Una decisione Giusta In cui Devono anche Prendere in considerazione Se stessi Inconsapevoli Di quei Pensieri Sono sature Delle immagini Di massa Che qualunque Considerazione Di se stessi Sia egoistica E peccaminosa Quelle immagini Di massa Ostacola Completamente La capacità Di prendere Decisioni Naturalmente Entrano in gioco Anche tutte Le varie paure E problematiche Eppure Prendere decisioni Non è indispensabile Per vivere Per vivere In modo sano All'incapacità Di prendere decisioni Contribuiscono Le distorsioni Nella mente E nell'anima Da un lato La carenza Del suono Amore di sé E dall'altro Un amor proprio Ipertrofico E malato Fanno oscillare L'individuo Tra i due estremi Sbagliati Finché Non riuscirete A individuare Il punto focale Menzionato La gente È incapace Di trovare Una via D'uscita Coloro a cui È stato insegnato Che pensare A se stessi È egoistico Sono Totalmente Confusi Credono Che ogni Vantaggio Per se stessi Debba essere Automaticamente Sbagliato Ma questo Potrebbe Non essere vero Ancora una volta È impossibile Stabilire Una regola Fissa Rendetevi conto Che siete spesso Chiamati A prendere decisioni Quando non è facile Scegliere Tra un ovvio Giusto E uno sbagliato Buono E cattivo Bianco E nero Le decisioni Possono ferire Le persone Prendete in considerazione Il fatto Che non dovete Per forza Essere voi La persona ferita Anche se A volte Questo può accadere In altre occasioni Può essere saggio Decidere Che non siate voi Questo potrebbe Sembrare In contraddizione Con quello Che ho detto prima Cioè Che causare Un qualunque Svantaggio A un'altra persona Nè Non Saggio Ripeto Questo potrebbe Sembrare In contraddizione Con quello Che ho detto Prima Cioè Che causare Un qualunque Svantaggio A un'altra Persona Non è Non sia Né saggio Né realmente Vantaggioso Per voi Ma in realtà Non c'è Alcuna Contradizione Su questa Sfera terrestre Entrambe le affermazioni Sono vere Quando Vi trovate Di fronte Ad una Decisione In cui Non potete Evitare Di ferire Qualcuno Che siate Voi O un'altra Persona Siete in realtà Davanti al risultato Di un insieme Di distorte Reazioni A catena Provenienti Dal passato Ormai Il passato Non lo potete Più cambiare E perciò Non potete Più evitare Di affrontare La questione Nel presente E ancor meno Vi sarà utile Non prendere Nessuna decisione In quel caso Siete egoisti O masochisti Perché Non considerando Voi stessi Con sano rispetto State negando Voi stessi Quel medesimo diritto Che date all'altro E a lui Negate lo stesso diritto Che date a voi stessi Se soppesate Tutto ciò Con integrità E onestà Troverete La risposta giusta Che varierà Da caso A caso Se Porterete A voi stessi Il giusto rispetto Smetterete Di esigere Una posizione Di privilegio Come emotivamente State facendo Nel momento Quando ricorrete Al famoso Nome Alla merito Che viene fuori Così spesso Durante il lavoro Sulle immagini Siete fuori strada Come compensazione Di questa cosiddetta Umiltà Non cercate Il punto Di svolta Menzionato sopra Ma andate direttamente All'estremo opposto Mettendovi Su un altro piano Separato dagli altri Chiedendo più Di quello Che date Inconsciamente Emotivamente E psicologicamente Vi ribellate Contro la vostra Stessa mancanza D'amore di sé Contro il disprezzo Di voi stessi E scegliete Un'insana Sovra Compensazione In realtà La vostra ribellione Non è mai diretta Verso gli altri Sebbene all'inizio Posso sembrare così In profondità La ribellione È contro La bassa opinione Che avete Di voi stessi Di nuovo Le mie parole Sono indirizzate Molto più Ai vostri sentimenti Che al vostro intelletto Al quale Molto di quel Che ho detto Appare Evidente Queste parole Dovrebbero raggiungere Le emozioni Che emergono Alla superficie Mentre proseguite Il lavoro Che altrimenti Non potreste comprendere Quando l'inconscio Permette loro Di emergere Queste vi sembrano Un grande groviglio Di emozioni confuse Con l'aiuto Delle mie parole Sarete in grado Di lavorare Con quelle emozioni Se Non le comprendeste Esse Vi soffocherebbero Completamente Vi depriverebbero Più del necessario E Non vedreste più Nessun rimedio Nessuna via d'uscita Perciò Rileggete di nuovo Attentamente Queste parole Cercando di percepirne Un eco Entro voi stessi Vorrei anche parlare Del ruolo Che ha La punizione Nella personalità umana In precedenza Ho parlato A lungo Dello specifico Bisogno di Autopunizione Tuttavia Nel bambino Come nell'adulto Immaturo Esiste Un'altra forma Di punizione Cioè Il desiderio Di punire L'altro Se L'altra persona Non ha seconda I vostri desideri Spesso Sentite Il desiderio Di punirla La cosa Può accadere In modi Molto nascosti E sottili Non è necessariamente Evidente Nelle azioni Ma si tratta Più che altro Di un atteggiamento Interiore È ben noto Che ogni essere umano Da bambino E qualche volta Anche dopo Ogni volta Che vive un dolore Una delusione Una frustrazione O un rifiuto Desidera morire Analizziamo bene Questo desiderio Si scopre Che raramente Il dolore È così profondo Da rendere Autentico Il desiderio Di morire Il bambino Desidera morire Quasi sempre Per punire Coloro Che l'hanno Contrariato Il bambino Sente E pensa Qualcosa del genere Ora Saranno Dispiaciuti Ora Vedranno Quello che hanno Perduto Piangeranno Al mio Funerale Conoscete tutti Queste reazioni Infantili Che spesso Si verificano Persino Nelle persone Già abbastanza Adulte Ma anche voi Se non vi abbandonate Più a tali fantasie Quando qualcuno Vi offende Non portate Forse con voi Lo stesso germe Che si manifesti In un altro modo Non esprimete La stessa cosa Attraverso le piccole Sottili reazioni Invece di Abbandonarsi Ad una fantasia Di morte È possibile Punire gli altri In molte altre maniere Ogni volta Che vi sentite Riffiutati O disprezzati Controllate Nelle vostre reazioni Più interiori Là Dove può Entrare L'elemento Punitivo Quando l'avete trovato Sarà già Un successo Osservate Queste reazioni Senza sensi Di colpa Con la Saggia distanza Che dovreste avere Verso l'aspetto Infantile Che ancora vive Nella vostra umanità Tutti gli esseri umani Si portano Dentro il bambino Che sono stati Per tutta la vita In un modo Nell'altro Sappiate Prendere questa distanza Sorrideteli Non coinvolgetevi Con quella parte Del vostro essere Ma guardatela Con obiettività Ci sono molti modi Di punire Quelli che vi amano Per esempio Ammalandovi Quante persone Sviluppano una malattia Per punire Coloro che amano Per forzarli Ad essere affettuosi Comprensivi E premurosi Ma esistono anche Molte altre forme Scopritele Se vi potete Riconoscere Anche da questo Punto di vista Porterete luce E aria fresca Nella vostra anima Niente Se non la realizzazione La capacità Di riconoscere Nel giusto spirito Tali reazioni nascoste Contribuirà Alla vostra salute mentale Emotiva E spirituale C'è qualche domanda In relazione A quello che ho detto stasera? Domanda In relazione Al modo giusto Di amare a se stessi Potresti parlarci Della Autocomiserabilità E dell'ecocentrismo Risposta È vero Che entrambi Sono il risultato Di una forma errada Di amore di sé Per quel che riguarda L'ecocentrismo Credo che la domanda Abbia già ricevuto risposta Sebbene io Non abbia usato Quel termine specifico Per autocomiserazione Invece Esaminiamo Che cosa esprime Il compatimento di sé Che cosa ci dice L'anima Mediante questa emozione Essa dice Riconosco che non posso Cambiare niente Perciò Voglio che il mondo Il mio ambiente I miei cari Dio Vedano quanto soffro Quanto è piccola È la mia colpa Quanto io Sono stato vittima Delle circostanze Sulle quali Non ho alcun controllo Voglio che siano Gli altri a cambiare Se rende esplicita La mia offerenza Forse Cambieranno Chiunque si renda Pienamente conto Che non può accadere Nulla Che non sia Autoprovocata Indulgerà Ma Non indulgerà mai Nell'autocomiserazione Se siete dispiaciuti Per voi stessi Non avete ancora Accettato La verità Che voi E solo voi Siete i padroni Della vostra vita Questa È una verità Scomoda Che viene spesso Valutamente Evitata Ma è La sola verità Che potrà Rendervi Veramente liberi E indipendenti L'autocomiserazione È un completo Rifiuto Della responsabilità Personale Esprime ancora di più Il desiderio Nascosto Di forzare Gli altri Siano essi Persone Dio O la vita A fare Quei cambiamenti Che invece È necessario Che facciate Voi Nel vostro sé Domanda Dove cade La linea di demarcazione Tra il sano amore di sé E quello patologico Quale definiresti Quello patologico Risposta Io penso Mio caro Che è quello Di cui abbiamo parlato In questa reazione Qualcun altro Pensa che non sia Stato sufficientemente Spiegato Se Gli altri Sentono Che le mie parole Non sono state chiare Sarò felice Di dare ulteriori chiarimenti Ma se sei il solo A non aver capito Troppo bene Forse ti sei perso Parte del discorso Forse ti sei distratto E quando lo rileggerai La lezione Il significato Che ora ti sfugge Sarà più chiaro Se a quel punto Avrai difficoltà Sarò lieto Di aiutarti Personalmente Come ho detto Non si può stabilire Una regola Per tirare Una linea Netta Di demarcazione Con questa linea Può essere Trovata Solo se L'individuo Si interroga Verifica Le sue emozioni Le analizza Per accettarne Il significato Per conoscere Quello che esprimono La linea di confine È dentro L'individuo È la verità Interiore Che ogni singola Di ogni singola persona Essa si differenzia In ogni essere umano Domanda Potresti chiarire In che modo L'odio di sé Imperisce All'individuo Di accettare E di amare Risposta Non ho usato Il termine Odio di sé Bensì Disprezzo di sé Ho detto Semplicemente Che nella misura In cui vi Disprezzate Vi sentite Anche inferiori Perché In qualche modo Siete disonestiti Con voi stessi E con la vita Nella misura In cui Non vi amate Correttamente Allo stesso modo Compensate Con un eccesso Di amor proprio Maldiretto Domanda Che cos'è Il narcisismo Risposta Questa È una forma Di amor proprio Si può manifestare In vari modi Non necessariamente Nel banale Senso fisico Di essere innamorati Del proprio aspetto Osteriore Anche di questo Ho già parlato Pur Senza usare Questa particolare Espressione L'amor proprio Viene distorto Quando la forza vitale È diretta Verso se stessi Invece di essere Proiettata Verso l'esterno E di farne Ponte Con altre persone Domanda C'è Qualche possibile Collegamento Tra l'eccessivo Amor proprio E l'omosessualità? Risposta Ci può anche essere Ma non si può Generalizzare L'origine L'origine Dell'omosessualità È molto Variegata Affermare Che l'omosessualità Derivi da questa Da quella causa È molto Miepe Spiritualmente Parlando Per quel che Concerne La legge Carmica Le possibilità Sono altrettanto Variegate Molteplici Quanto lo sono I fattori Psicologici I fattori Spirituali Non contraddicono Mai I fattori Psicologici E questi ultimi Sono solo Un'estensione Dei primi La differenza Risiede nel fatto Che per voi Non è molto facile Rintracciare L'origine Carmica Mentre potete Sempre trovare Le radici Psicologiche E le origini In questa vita Questo Per inciso Si applica A tutto Non soltanto L'omosessualità Per ciò Che concerne L'omosessualità La causa Ed effetto In questa vita Presenteranno Molteplici Possibilità Una delle possibilità Può essere una forma Di eccessivo amor proprio Ma vi possono portare Anche molti altri fattori Un'altra ragione Dell'omosessualità Può essere anche Un eccessivo timore Delle donne Da parte di un uomo O degli uomini Da parte di una donna Ancora Un'altra ragione Può essere Esattamente l'opposto In altre parole Se un ragazzo Ama moltissimo Sua madre Mentre disprezza E teme suo padre Anche questo Può portare L'omosessualità Perché egli Vuole emulare E imitare Sua madre Si vuole Identificare Con lei Ma un'altra persona Con differenti caratteristiche Può essere Omosessuale Per il motivo opposto Allora Si tratterà Di paura E di odio Verso la madre O della figura Femminile Che ha preso Il posto Della madre Piuttosto Dell'amore E del desiderio Di identificarsi Con lei Così Anche qui Vedete Non ci si può E' possibile Ripeto Così anche qui Vedete Non si può E non è possibile Generalizzare E generalizzare E' sempre pericoloso Naturalmente Si dovrebbe anche Tenere presente Che non si può Trattare di un singolo fattore Nessun fattore Da solo Può bastare Che vi sono molte altre ragioni Che possono avere Un peso rilevante Vari fattori Insieme Possono essere coinvolti Nel caso specifico Di un eccessivo Amor proprio Che porta All'omosessualità O che Al limite Ne sia Almeno In parte Responsabile Vi sarebbe L'identificazione Con l'amato Che viene Vissuto Che viene Sostituito Dall'altro Essere umano Poiché L'inestinguibile Desiderio dell'anima Di creare un ponte Con l'altro Se non può Essere interamente Sradicato Così Quelle due correnti Lavorano assieme Esprimendosi Nella scelta Di un parno Dello stesso sesso Domanda Il sé superiore Si sente portato Verso il principio femminile Lo stato dell'essere Non potrebbe anche Essere Questa è una ragione Per l'omosessualità Intendo dire La corrente In compresa Di questo anelito Risposta Intende dire Nella omosessualità Maschile Si Potrebbe essere Ma allora Come spiegheresti L'omosessualità Femminile Potrebbe essere Esattamente L'opposto Si Perché Vedi Il sé superiore È sia maschio Che femmine Contiene correnti E tratti Sia maschili Che femminili Naturalmente Questo Centra Ma non è Un fattore in più Quanto piuttosto Una spiegazione Delle deviazioni L'errata interpretazione Di queste forze animiche Provoca Una deviazione Delle emozioni Per ogni altro aspetto Sappiamo Che succede Nello stesso modo Tale frantennimento È causato Da alterazioni Psicologiche In altre parole Se un uomo Rifiuta Di prendere Decisioni E Tutto Quello Che è parte Di una vita Attiva Il lato femminile Della sua natura Cresce A dismisura D'altro canto Se una donna Teme Lo stato passivo E ricettivo Il quale In un modo sano È parte Della sua natura Diventerà Iperattiva Quella Iperattività Supera Certi limiti Può sfociare Nell'omosessualità Come ho detto Normalmente Entrano in gioco Molti fattori E non uno soltanto Per cui Bisogna prendere in considerazione Tutto il sistema Complessivo Qui Dovete distinguere Anche un altro fattore Cioè Il grado Di tendenza omosessuale Il quale È anch'esso Determinato Da molti elementi Se il grado È Relativamente Piccolo Può essere Accresciuto Da sensi di colpa E repressione Ma Affrontandolo Potrà essere Ridotto In quel modo L'individuo È aperto Ad un'ulteriore Ricerca Che lo porterà A capire I vari fattori Che vi sono implicati Se per le giorni Carmiche Il grado È più forte Allora Può mancare Il desiderio Interiore Di cambiare Ogni caso È diverso Io Posso mostrarvi Solo Lo schema generale Le molte possibilità Quanto è pericoloso Dire che L'omosessualità Deriva da questo O da quello Fare un'affermazione Pretendendo che valga Per tutti i casi Una cosa del genere È assurda Domanda E cosa puoi dire Delle persone Bisessuali? Risposta Ancora una volta Le ragioni Sono molteplici Le origini Possono essere Le stesse Che sono Alla base Delle omosessualità Seppur Indebolite Da una sana Forza Opposta La quale Può essere Più forte Può anche Essere Che la personalità Sia così Contratta Così rigida Che l'individuo Non è in grado Di lasciarsi andare Per donarsi Completamente Perciò Dopo che è passato Il primo periodo Di innamoramento Di novità Di eccitazione Subentra Alla noia Se questo accade Continuamente Con sempre Nuove partner Di stesso posto Non si ottiene Nessun senso Di distensione E soddisfazione Allora Per avere Un'esperienza Completamente diversa Viene cercato Un partner Dallo stesso sesso Qui Abbiamo di nuovo Un caso di ricerca Del rimedio sbagliato Perché con tanti Mezzi artificiali Non si ricorre Per ignoranza Si finirà Per avere Uno stallo Per quanto riguarda L'appagamento Non importa Quanto sia diversa La nuova situazione Anche quella Alla fine Cesserà di essere Uno stimolo E il rimedio Sta nel rintracciare La paura Di lasciarsi andare Di inonarsi Di aprirsi E rilavarsi Di cercare L'altro sé Fare questo Sembra Implicare Sempre più rischio Quello di vivere E di amare Nella misura in cui Questo rischio Viene evitato Si può instaurare La monotonia Sessuale Che può causare L'insorgere Di ogni genere Di cosiddette Perversioni Oppure Per un tipo Diverso di carattere La cosa La cosa Può sotto varie Maschere religiosi Spirituali Essere fatta passare Per virtù Con la negazione Di qualunque Esperienza Sessuale Domanda Ho letto Ho letto recentemente Che lo spirito O l'anima Deve essere Sia maschio Che femmina Per essere concreto Così Per 4 o 5 Incarnazioni Uno potrebbe essere Maschio E successivamente Una femmina Per altre 4 o 5 Incarnazioni Di conseguenza Uno potrebbe essere Omosessuale Nel proprio cambio Di sesso È possibile Risposta È possibile Ma non deve Per forza Essere così Inoltre Noi non sappiamo Non possiamo Dire 4 o 5 vite Questa può accadere In alcuni casi Ma in altri Può essere diversamente Ancora una volta Le generalizzazioni Possono portare Ad errori Vedi L'entità spirituale Originare È un essere Composto di qualità Sia maschili Che femminili La divisione È avvenuta Soltanto dopo La caduta La scissione Non avviene Sempre in maniera Uniforme Perché Da una parte Dell'entità Ha tutte le qualità Maschili E dall'altra Tutte le qualità Femminili Poiché la caduta È il prodotto Del caos Anche la scissione Delle singole entità È stata caotica Cioè È avvenuta Nel caso Secondo L'attitudine E le emozioni Che governavano L'entità In caduta Così In alcuni Eseri L'accessione È molto più irregolare E combina Qualità Maschili E femminini In entrambe In entrambe le metà In altri casi È stata una divisione Più netta Del tipo Maschio Femmine Sebbene In ogni caso Non in ogni caso Ovviamente A seconda A seconda Delle regolarità O irregolarità Delle incarnazioni Cambiano Da un sesso All'altro Se una parte Dell'entità Scissa È prevalentemente Maschile O femminile L'altra parte Corrisponderà A questa E nel ciclo Delle incarnazioni I cambiamenti Di sesso Avverranno Meno spesso Nei casi In cui Il cambiamento Di sesso Deve avvenire Più spesso A causa Di una maggiore Sproporzione Avvenuta dunque Avverrà dunque La divisione La prima volta In cui Nasce L'entità Di sesso Opposto Rispetto a quello Delle incarnazioni Nel precedente Può manifestarsi L'omosessualità Ma questo Non altererà Minimamente I fattori psicologici Infatti Tutte le incarnazioni Esistono Per rendervi Più sani E integrati Se un'entità Non elimina I fattori psicologici Errori Attraverserà Una vita Dove Le sarà Sempre più difficile Superare L'omosessualità Quindi È importante Trovare Sempre le cause Indipendentemente Dalla verità Della legge Karmica Una cosa Non escude Mai l'altra Ora Vi lascerò Per breve tempo Ma solo Nella manifestazione Tuttavia Questo non significa Che tutti i vostri amici spiriti Non siano sempre con voi E vicino a voi Ricordatelo Possiate tutti voi Durante questo periodo di riposo Trovare Nuova forza Nella vostra anima Nuova forza Di volontà Nuova comprensione E un nuovo desiderio Di crescita Di cambiamento Interiore Non ci può essere Niente di più fruttuoso Niente che vi dia Una soddisfazione Più costante E più appagante Di questa La benedizione Di Dio Sono con ognuno di voi E attendo solo Che abriate La vostra anima E che lasciate penetrare Nel vostro essere interiore Siate in pace Miei carissimi amici Siate in Dio Avete ascoltato La lezione Della guida del sentiero Numero 53 L'amore di sé Per ulteriori informazioni Visitate il sito web www.bibriatecadelsentiero.org